Il progetto dimostrativo Life Remida funziona, riesce ad eliminare i gas climalteranti che furiescono dalle discariche esaurite e anche gli odori. In entrambi i casi molto spesso al 100%. Il progetto finanziato dall'Unione Europea a due anni dalla sua nascita sta dando risultati molto positivi. Life Remida è stato ideato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze con il parternariato di Regione Toscana insieme al Centro Servizi Ambiente Impianti e Siena Ambiente. E nei giorni scorsi nella discarica di Podere il Pero dove si sta sperimentando il progetto sono arrivate per constatarne i risultati e per replicarlo nei loro paesi le due delegazioni dei Ministeri dell'Ambiente di Cipro e della Grecia insieme ai rappresentanti del nostro Ministero dell'Ambiente. L'altro impianto pilota si trova alla discarica delle fornace di Monticiano. Arrivato a questo punto Remida sta dimostrando di avere i numeri per una replicabilità sulle discariche più vecchie e le potenzialità per cambiare meglio l'attuale normativa sulle discariche. I due impianti pilota sono impianti che stanno dando delle performance molto interessanti. La Regione Toscana dovrà lavorare alle linee guida per appunto dettare le modalità con le quali trattare i gas emissivi delle discariche e recentemente devo dire che l'impianto di Castiglione Fibocchi è stato visitato dal Ministro dell'Ambiente del Cipro, cosa che ci fa particolarmente piacere perché evidentemente l'attenzione anche della comunità europea rispetto a questo nostro progetto è davvero molto alta e quindi speriamo di poter in qualche modo chiudere la fase della sperimentazione e della progettazione ed esportare questa buona pratica su vasta scala. La Regione Toscana ha avviato il lavoro per la stesura delle linee guida regionali per la gestione del gas di discariche in fase di post-gestione ed elaborerà anche una proposta di approfondimento della normativa tecnica di riferimento, il Land Field Directive, che potrebbe incidere su una positiva modifica della normativa nazionale e comunitaria. La biofiltrazione come sistema naturale di ossidazione del metano porterà infatti ad un contenimento dei costi di post-gestione delle discariche, mantenendo un'adeguata tutela ambientale. Un impegno nel cercare di ridurre l'impatto ambientale degli impianti di smaltimento, non solo in fase di coltivazione, ma anche nella loro gestione dopo la loro chiusura.